Buongiorno amici di Fatti Italiani, io mi trovo all'Arena di Verona per un bellissimo evento che c'è questa mattina con la presenza del Santo Padre, Papa Francesco. Parliamo delle uscite di questa settimana. Cult and Razer, 5 tracce nuove di Salmon Noids, delle vere mine. Un brano che mi ha molto colpito e che insomma mi fa piacere perché sta proseguendo su una linea e su una carriera interessante è quello di Maninmi, Amore Gourmet, che consiglio vivamente di ascoltare. Però la vera cannibale di questa settimana è Billie Eilish, che col nuovo album ha già preso tutte le classifiche e devo dire che insomma Billie è sempre di un livello veramente supremo e superiore. Quindi in questo momento mi viene difficile parlare di altri pezzi, però vi parlo di quello che sto per ascoltare tra poco qui, di un'artista italiana molto brava, italiana-australiana, che si chiama Felicity, che porterà insieme al corna musicista spagnolo Hevia il nuovo singolo, uscito giusto l'altro ieri, che si chiama Col mare dentro e lo presenterà per la prima volta con la presenza del Santo Padre, Papa Francesco. Quindi ascoltatelo perché se il pezzo è arrivato qui un motivo ci sarà. Alla prossima!